Confermare la buona prova offerta a Brescia e portare a casa punti importanti per classifica e morale. La Virtus Lanciano non vuole fermarsi e lunedì sera nel posticipo del Guido Biondi cercherà di rendere la vita molto dura alla corazzata Bari. Contro i pugliesi alle prese già con sussurri e polemiche dopo il non brillante avvio di campionato, i rossoneri cercheranno dall'altra parte di far vedere che il KO di due settimane fa in casa con il Frosinone è stato un semplice incidente di percorso. Mister Daversa in queste ore della vigilia sta sfogliando la Margherita e spera di recuperare qualche acciaccato. Il riferimento è a Paghera che non ha disputato la partitella del venerdì così come Piccolo e Amenta. In dubbio anche il portiere Nicolas e Ferrario che hanno lavorato a parte. Se Amenta non dovesse farcela sarà Antonio Aquilanti in difesa a scendere in campo dal primo minuto. La notizia positiva riguarda invece la disponibilità di Babatiam che dopo la riduzione della squalifica potrà essere della contesa con uno fra Cerri e Monachello in ballottaggio per un'altra maglia da attaccante. Nel Bari Mangia medita di lanciare dall'inizio il polacco Rafal Wolski, previsto l'arrivo in Abruzzo di alcune centinaia di tifosi biancorossi. Grazie. Grazie.